Salve amici, molti di voi che seguono con una certa attenzione tutti questi miei video mi scrivono perché vorrebbero che dicessi la mia a proposito del fenomeno della cosiddetta editoria a pagamento. Un fenomeno molto vasto, un fenomeno che si sta estendendo sempre di più e in che cosa consiste? Consiste che uno scrittore o aspirante tale o comunque un inedito che ha scritto un romanzo o un saggio, si presenta ad una casa editrice nella speranza che il suo testo venga pubblicato diventi un libro e si vede rispondere che quel libro sì potrebbe essere pubblicato in un certo numero di copie in genere tra le 500 e le 1000 copie e si sente dire che naturalmente per fare questa operazione lui deve dare un contributo di alcune migliaia di euro. Ebbene cari amici, quando vi trovate di fronte a realtà che pur avendo il marchio di casa editrice vi fanno proposte del genere, siate perfettamente consapevoli che non siete di fronte ad una casa editrice ma siete di fronte a delle persone che hanno messo in piedi un business che per carità se voi lo accettate non commettono assolutamente nulla di illegale, voi desiderate stampare un vostro libro, loro ve lo stampano e voi pagate per quel libro che vi è stato stampato. Ma questa non è la strada, innanzitutto non sarà mai la strada da seguire per chi realmente vuole che il proprio libro arrivi in una libreria o venga visto da dei critici letterari, vuole cominciare a farsi conoscere o aspira ad ottenere qualche risultato di vendita, perché in situazioni del genere per bene che vada il libro apparirà in due o tre librerie amiche dell'editore che vi ha stampato questo libro, dopodiché non se ne saprà più nulla e l'autore si ritroverà magari con 100, 200, 300 copie di questo suo libro e la soddisfazione di avere il suo testo stampato in un libro, però tutto inizierà e finirà con il pagamento di una certa cifra e con un certo numero di copie del volume stampato che l'autore ha ricevuto e conserverà in un angolo della casa e se sono troppo incombranti metterà in cantina o comincerà a regalare a destra e a mano. Questa certamente non è la strada che desidera percorrere qualsiasi aspirante scrittore e non è certamente la strada che vuole percorrere ogni autore. Qual è la strada giusta? Ve lo spiego nel prossimo video. Grazie a tutti.